Oggi andremo a vedere se e come perdonare i narcisisti. Ben ritrovati in questo 2024, spero che abbiate passato delle bellissime feste e che il vostro o la vostra narcisista di turno non vi abbia troppo importunata. Detto questo, partiamo con la tematica del perdono. Questa è una tematica che volevo affrontare da tanto tempo, ma siccome non voglio darvi informazioni parziali, quello che vorrei è darvi anche un'interpretazione religiosa, no? Perché fondamentalmente il concetto del perdono ha una radice molto religiosa, quindi volevo cercare di darvi un approccio da questo punto di vista. Però intanto possiamo affrontare questa tematica da due punti di vista. Questo primo punto di vista è molto soggettivo, è molto quello che penso io del perdono in base alla mia esperienza. Poi comunque vedete voi, vedete quello che vi conviene di più, in base anche alla vostra situazione, perché non va mai messo in secondo piano il tipo di situazione in cui vi trovate, specialmente se dipendente della persona tossica con la quale vivete. Fatta questa premessa, il perdono, secondo me, andrebbe visto innanzitutto in base a tutti i rimpianti e le aspettative che ci siamo fatti da questa relazione che non è andata come ce lo aspettavamo. Perché diciamoci la verità, è inevitabile avere qualche senso di colpa, anche se de facto non ne abbiamo alcuni. Perché il senso di colpa che abbiamo è quello di avere l'impressione di essere stati ingegni a farsi ingannare in questa maniera qui, perché magari certi segnali li abbiamo visti. Li abbiamo visti però senza sapere di cosa si trattava. Perché ricordiamo ancora, chi è che aveva mai parlato del gaslighting, della triangolazione e di tutte queste tecniche che usano i manipolatori narcisisti? Nessuno. Quindi da questo punto di vista è stato di più l'instinto ad avvisarci e a dirci che forse in questa relazione c'era qualcosa che non andava. E non avendo ascoltato questo istinto, per forza di cose abbiamo dei sensi di colpa. Perché poi eventualmente ci sono anche i nostri amici o i nostri familiari o comunque delle persone che avevano già visto dove stava andando a parare il narcisista o la narcisista con la quale eravamo, però non abbiamo voluto ascoltarli. Abbiamo detto no, 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 no. Silenzio. Io adesso voglio godermi questa relazione magica con questa persona che sembra essere proprio quello che ho sempre sognato. Ecco, quindi da questo punto di vista possiamo avere dei sensi di colpa ed è questo aspetto che dobbiamo pensare a perdonare. Dobbiamo perdonare noi stessi prima di tutto. Perdonarci per non essere stati attenti, per aver avuto troppe aspettative che poi nei fatti non è stato quello che volevamo. Perché se non facciamo questo poi cominciamo ad autoflagellarci. Anche a distanza di tanti anni cominciamo a pensare che il problema in realtà siamo noi, che forse sogniamo troppo, che forse ci facciamo troppe aspettative sulle persone. Può anche essere vero, può anche essere vero, perché comunque prima di conoscere bene una persona tendiamo ad idealizzarla. È nella realtà dei fatti che poi cominciamo a vedere le persone per chi sono veramente. Il problema sta nel fatto che quando questa idealizzazione e la realtà sono troppo distanti fra di loro, allora lì l'impatto con la realtà è molto pesante. Perché ci siamo immaginati nella nostra mente che questa persona corrispondeva agli ideali di così, di colà. Vabbè che comunque per quanto riguarda i narcisisti loro ci lavorano, cioè non è che noi abbiamo queste aspettative così che spuntano fuori dal nulla. Vengono nutrite con il falso sé del narcisista che ci dice praticamente quello che abbiamo voglia di sentire, ci mostra quello che abbiamo voglia di vedere, andando a nutrire una nostra fantasia per certi punti di vista. E quindi è questo aspetto che dobbiamo perdonare di noi stessi. Dobbiamo perdonarci per aver avuto troppe aspettative. Dobbiamo perdonarci di avere chiusi gli occhi laddove sentivamo che c'era qualcosa che non andava. È da questo punto di vista che il perdono va fatto prima di tutto su noi stessi. Per seconda cosa bisogna perdonare anche i narcisisti. Ma non perdonarli nel senso che ok, capisco che mi hai fatto del male, capisco che sei così e quindi ricominciamo da capo. Assolutamente, perché questo non è perdono. Questo è dare l'incentivo a questa persona di farci ancora del male in futuro. Perché i narcisisti ogni volta che gli diamo l'occasione di ritornare nella nostra vita, dopo che ci hanno offeso, dopo che ci hanno maltrattato con sufficienza, come se fossimo un straccio così da usare come cavolo gli pare per ripulire la loro spazzatura psicologica, quando noi facciamo questo, loro confermano l'immagine negativa che hanno su di noi, ossia che siamo delle persone che non hanno valore e che non sanno valorizzarsi e quindi imparano a conoscerci meglio. Se tipo li beccate dopo tre mesi che siete assieme, gli fate notare tutte le cose che non vanno e li perdonate, sapete cosa succede? Aspettate cinque, sei mesi e vedete che vi ritroverete nella stessa situazione nella quale eravate sei mesi fa, quando avete avuto il primo problema. Perché è questo che succede quando si perdonano ai narcisisti i loro comportamenti nei nostri confronti. Per come la vedo io, il perdono andrebbe visto sul tipo di persona che sono, che sono gestiti interamente dalla loro patologia. Li perdoniamo perché sappiamo che non possono cambiare, perché sono mossi da meccanismi che vanno oltre la loro comprensione. È da questo punto di vista che li perdoniamo. Ma non è che li perdoniamo per poi resettare la situazione e ricominciare da capo. Questa è una cosa alla quale mi oppongo fermamente, quella di ridare ai narcisisti più di un'opportunità, specialmente quando abbiamo capito qual è la loro vera natura. Perché non cambiano, queste persone non cambiano. Imparano soltanto a diventare più bravi a fare quello che fanno ogni volta che gli diamo l'opportunità. Questo è il punto. E quindi da questo punto di vista, la cosa che si può perdonare è il fatto che sono così e non possono cambiare per accontentare le nostre aspettative o comunque alcune delle nostre aspettative. Perché ricordiamo che una relazione si basa sul condividere. Io ti do qualcosa di me e tu mi dai un pezzo di te. Unendoci, costruiamo qualcosa. Ma se nella relazione a dare è soltanto una parte che praticamente viene consumata dall'altra, questa non è una relazione. Questo è sfruttamento. Questo è tirare vantaggio di una persona fino a consumarla, prosciugandola all'estremo. Quindi da questo punto di vista, la cosa che dobbiamo perdonare è il fatto di aver avuto delle aspettative su una persona che non è in grado di accontentarle, non è in grado di essere anche al 30% quel tipo di persona che ci aspettavamo. E inoltre, perdonare i narcisisti da questo punto di vista serve anche per liberarci dai rancori e dai risentimenti. Questo è molto importante. Perché finché non ci rendiamo conto che abbiamo di fronte una persona che usa i stessi meccanismi con chiunque, quindi se sono stato io questo giro, al prossimo sarà qualcun altro con il quale o la quale ripeterà i stessi meccanismi che ha usato con me. Finché non saremo in pace con questo aspetto, tenderemo a nutrire risentimenti e rancori, perché penseremo che quella persona lì ci ha fatto quello che ci ha fatto soltanto perché si trattava di noi e basta. E quindi diventa una cosa estremamente personale. Per certi versi lo è, perché comunque è un'interazione intima che si è avuto con questa persona. E quindi per forza di cose ci sentiamo traditi. E ogni tradimento, specialmente se ci abbiamo messo tanto di noi stessi in una relazione, ci fa imbestialire, ci fa incavolare. Poi se appunto aggiungiamo le cattivere che ci sono state fatte, le parole pungenti che ci sono state dette, di fronte anche ad altre persone per umiliarci come si deve e distruggere la nostra autostima, se pensiamo che tutte queste azioni sono state mosse da motivazioni estremamente personali e che quindi questa persona ha fatto questo tipo di cose soltanto su di noi e nessun altro, lì vi dico, il rancore, la rabbia, la voglia di vendicarsi, diventa estremamente difficile da togliersi. E come ho menzionato nel video fatto in precedenza, per i nuovi arrivati lo potete trovare qui, questi sentimenti poi vanno a rovinarci la vita, ce la rovinano da un punto di vista della nostra salute, ma ce la rovinano anche perché ci fanno perdere tempo. Perdiamo tempo a pensare delle cose che comunque non si realizzeranno e nell'eventualità in cui magari proveremo a cercare di realizzare queste idee nefaste che abbiamo nei confronti di narcisisti non ci porterà nulla di buono, ci toglierà soltanto eventualmente la nostra libertà fisica, ma anche la nostra libertà psicologica, perché quella persona diventerà la nostra ossessione. Quindi immaginate, invece di spendere un'ora magari a cercare di ricostruire la propria vita leggendosi un libro, guardandosi qualche video interessante su YouTube o interagendo con persone che possono condividere la propria esperienza con noi in modo da aiutarci a colmare quei pezzi mancanti per poterci ricostruire, spenderemo invece il nostro tempo a pensare ah ti dico no 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 le deve capitare questo gli deve capitare questo io quella persona la odio vuole che le capiti questo, questo e questo cioè immaginate un'ora così al giorno o eventualmente cinque ore così al giorno è tempo perso è tempo perso che si può appunto usare per fare cose costruttive. Praticamente provate a vederla così è come dare un colpo di spada nell'acqua perché alla fine non risolve niente non fa che consumarci energeticamente riducendo la nostra visuale su qualcuno che comunque non importa niente di noi non importa assolutamente nulla anche di pensieri che abbiamo praticamente provate a vederla così quelle ore che spendiamo ad immaginarci il peggio per i narcisisti quella così mentre noi siamo lì a perdere tempo in queste cose loro sono già ripartiti con qualcun altro a ricercare il rifornimento narcisistico da un'altra parte non è che stanno a pensare oh mio dio guarda che pensieri che ha su di me quella persona oh mio dio dovrei cominciare a cambiare dovrei cominciare a ripensare il mio modo di interagire con le persone non succede non succede questa roba qui non succede può succedere soltanto nella nostra immaginazione nella realtà dei fatti concreti questa cosa non succede quindi ancora una volta che cosa dimostra questo che stiamo soltanto perdendo tempo ed energie allora questo non vuol dire che non dobbiamo esprimere tutti questi sentimenti sono il primo a dirvelo non vuol dire che questi sentimenti non vanno espressi vanno espressi ma trasformati in una forza positiva questo non smetterò mai di dirvelo bisogna trasformare la nostra rabbia in un'energia che ci serve per fare del bene prima di tutto a noi stessi ed eventualmente ad altre persone che si trovano nella nostra stessa situazione magari o stanno vivendo una relazione tossica o stanno cercando di ricostruire la nostra energia serve a fare questo e in questo caso lì possiamo dire che ok stiamo andando avanti abbiamo perdonato i narcisisti per essere quello che sono perché sappiamo che loro comunque non cambieranno mai questi comportamenti che hanno avuto con noi lo faranno anche su altre persone perché sono fatti così punto quindi vedete come è la mia ottica del perdono questo è il modo in cui io vedo il perdono poi in futuro proverò a darvi anche un'interpretazione religiosa questo è tutto vi ringrazio per la vostra attenzione spero che questa tematica sia stato del vostro gradimento e se ho dimenticato alcune cose non mancate di farmele notare nei commenti così eventualmente farò un altro video per approfondire questa tematica e non mi rimane altro da dirvi che ci vediamo alla prossima cambia pensando cambia pensando cambia pensando